Siamo tre studentesse del corso di comunicazione didattica dell'arte dell'Accademia di Belle Arti di Roma e oggi presso la sede di Campobuario c'è stata una conferenza dell'artista Joyce Kotslov. La conferenza è stata molto interessante perché comunque lei ci ha fatto vedere il percorso che ha fatto quindi partendo dallo studio delle mappe che riguarda comunque il mondo e la conoscenza delle religioni e della diversità. E in ogni mappa che ci presenta ci fa capire come lei abbia interpretato quell'esperienza e la comunica poi allo spettatore. Mi piacerebbe davvero parlare con gli studenti in tutte le tre scuole in Roma e gli studenti ha chiesto domande molto interessanti, provocativi e difficolti. Grazie a tutti i nostri spettatori e mi piacerebbe aver guardato con gli studenti in Italia. E' stato divertente. Grazie a tutti.